Un piccolo ma prezioso passo verso la realizzazione del corridoio ferroviario baltico-adriatico. I rappresentanti delle 14 regioni europee interessate, tra cui il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e l'Emilia Romagna, hanno firmato al Parlamento Europeo un'intesa per lo sviluppo dell'infrastruttura, utile al nostro territorio perché in grado di intercettare rilevanti flussi di traffico provenienti dalle regioni russa e dell'area asiatica, oggi diretti soprattutto verso i porti tedeschi del mare del nord e della Finlandia e di incanalarli verso gli scali baltici e adriatici. Il corridoio, ha detto il vicepresidente della commissione con delega ai trasporti, Antonio Tajani, sarà valutato con attenzione dall'Unione Europea per rafforzare i collegamenti. Il progetto infatti non è inserito tra le priorità, ma questa intesa segna un primo importante step per poter mettere in moto il meccanismo dei finanziamenti. Ne è convinto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, consapevole comunque che il processo non sarà breve. Sulla stessa lunghezza d'onda anche gli assessori all'Emilia Romagna, Alfredo Peri e del Veneto, Isi Coppola, che con Tondo hanno certificato l'intesa con la firma per le rispettive regioni. Ci auguriamo ora, ha auspicato Isi Coppola, che le risorse per la realizzazione dell'infrastruttura siano messe in campo, mentre Tondo ha evidenziato i miglioramenti che il corridoio sarebbe destinato a portare alla popolazione anche dal punto di vista della qualità ambientale. Assieme alle tre regioni italiane, a firmare la dichiarazione c'erano anche i rappresentanti di 11 territori della Polonia, della Repubblica Ceca e dell'Austria. Grazie.